Ah, che bello! Finalmente un po' di tempo libero. Accomodati tesoro, prendo qualcosa da bere. Ne ho abbastanza! Pantaloni rotti, punto dalle molle, adesso basta! Santo cielo, poverino! Che cosa stai facendo? Liberiamocene! Bene, ora andiamo alla lippo a sceglierci un nuovo salotto. Alla lippo! Finalmente! Lippo, ora 12 punti vendita in Svizzera. Finalmente si riposa! Sì caro, riposati, vuoi che ti preparo qualcosa da bere? Pantaloni rotti, punto dalle molle, adesso ne ho abbastanza! Ho fatto cielo, poverino, cosa stai facendo? Riprendiamocene! Adesso andiamo alla lippo e ci scegliamo un nuovo salotto. La lippo finalmente! 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 Grazie a tutti.